Il romanzo Sotto la neve è un romanzo giallo ambientato nell'estremo nord del Canada e inizia con la scomparsa di una ragazzina, quindi è una storia vincente anche con dei colpi di scena però dicevo ha la struttura del giallo ma va oltre il giallo perché affronta temi importanti come le difficoltà delle relazioni umane, specie nelle piccole comunità e anche l'importanza del rapporto dell'uomo con la natura e con gli animali che spesso risulta salvifico e anche ci dà maggiore equilibrio anche nei nostri rapporti.